Edoardo Donnamaria comincia a fare pulizia delle foto di Antonella Fiordelisi. E adesso purtroppo dobbiamo darvi questa notizia che purtroppo per tutti i fans dei Donnalisi, ossia di Edoardo Donnamaria e di Antonella Fiordelisi non è oggettivamente una bella notizia. Infatti girovagando per l'account Instagram del Romano ci siamo accorti che sono sparite due foto molto significative. Ossia la foto con i cuori e i palloncini rossi love che si erano fatti una delle prime volte che entrarono insieme nella casa di lei a Milano e una foto che si fecero per strada nei giorni. Successivi che si baciavano Antonella Fiordelisi per il momento non rimuove nulla Intuiamo quindi che non solo si tratti di due foto di coppia, ma che si tratta anche di due foto molto significative. Al contrario in vee per il momento Antonella Fiordelisi ha deciso che non ha intenzione di rimuovere nulla. Infatti il suo primo tweet fissato è ancora la canzone piccolo sole da lui a lei dedicata. Secondo voi segno che Edoardo Donnamaria al contrario di Antonella Fiordelisi ha già superato. Edoardo Donnamaria al contrario di Antonella Fiordelisi ha già superato.